Il modello Salvini? In Abruzzo è già fallito, la giunta Marsilio, prima lenta, adesso è ferma. Lo hanno detto oggi a Pescara gli esponenti regionali del Partito Democratico, già pronti alla battaglia del voto. Al centro dell'incontro, convocato oggi in Comune a Pescara, doveva esserci l'autonomia differenziata, ma la crisi nazionale ha dettato una diversa agenda politica. Sì, una crisi di governo nazionale e anche regionale, nazionale per l'irresponsabilità, certamente di Salvini, alla quale si è coniugata anche un po' l'incompetenza dei loro compari di governo, dei 5 Stelle, e il prodotto è che ballano davvero su un Titanic che affonda. Io penso che loro non riescono a mantenere con la prossima legge di bilancio le varie balle elettorali che pure hanno rappresentato al nostro Paese in questi anni e pertanto staccano la spina, soprattutto Salvini, per incassare un consenso che rilevano i sondaggi, stacca la spina prima di doversi misurare con una legge finanziaria molto complessa per il nostro Paese. Parallelamente, come diceva in Abruzzo, anche qui in questo caso la Lega fa un vero e proprio halt all'Aggiunta Marsilio e al Presidente Marsilio su un grande tema, che è poi quello della sanità. Cioè sulle nomine, sulle poltrone, sulla indicazione dei vertici della sanità regionale, la Lega alza il prezzo e mette uno stop a Marsilio. 6 marzo, 6 agosto. Il 6 marzo è nata l'Aggiunta Marsilio, il 6 agosto c'è il primo vero stop e si passa da un'Aggiunta lenta a un'Aggiunta ferma. Forse in Abruzzo la differenza è che i 5 Stelle su Marsilio sono anche d'accordo con la Lega, addirittura hanno detto che è ora che se ne torni a Roma. A dire il vero, finora i 5 Stelle hanno avuto anche per via del rapporto nazionale una sorta di rapporto privilegiato anche con la Lega a livello regionale. Prova ne è che nelle varie nomine, nelle commissioni che hanno dato l'avvio a questa legislatura, i 5 Stelle insieme alla Lega hanno fatto quasi l'unplan, portando a casa l'80% delle nomine di questa regione. E pertanto è anche possibile che abbiano avuto su questo punto lo stesso tipo di visione. L'ipotesi che si fa a livello nazionale è di un governo futuro, Lega, con Fratelli d'Italia e invece con i 5 Stelle dall'altra parte, col PD. È possibile trasferire questa ipotesi anche a livello regionale? Beh, intanto assolutamente no, assolutamente no con il Partito Democratico e forse questa è una piccola differenza invece tra la questione regionale e quella nazionale perché a livello regionale c'è uno scontro tra Fratelli d'Italia e la Lega. Pertanto in realtà la edizione di un governo Lega Fratelli d'Italia è già in corso d'opera e di attività e purtroppo questo tipo di attività in regione Abruzzo.